che si passa da un servizio all'alto, sempre bravo il nostro Mario Fedele con la sua interpretazione e allora adesso immagini sul mio schermo perché qui si parla di una cosa molto importante che è Race for the Cure, 25 anni in Italia, ebbene oggi 4 e poi domani 5 e 6 ottobre in Campania, questi sono gli appuntamenti per Napoli, Race for the Cure è un'iniziativa dell'associazione Comen, Susan Comen per la lotta dei tumori al seno e vedrete molto il colore rosa in questi giorni, di che si tratta? Si tratta dell'iniziativa che punta a prevenire il tumore al seno, sono milioni nel mondo le persone, le donne che soffrono naturalmente di questa patologia e che però poi ne escono fuori proprio perché c'è la prevenzione che interviene, ti consente con la presa in carico di portarti fino alla guarigione poi con tutto quello che ne deriva. Allora oggi il programma prevede dalle 16 alle 21 l'apertura del villaggio della salute in piazza degli artisti con esami diagnostici gratuiti per donne in condizioni di fragilità sociale e poi nelle giornate di domani e dopodomani ancora tantissimi eventi. Dovremmo avere collegata con noi Marcella Montemarano che è radiologa, senologa, opera per la Asla Napoli 1 Centro, in particolar modo nella struttura dell'ex ospedale annunziata e appunto di questo, questo è il suo, il core business della sua attività, no? Le donne e la cura e la prevenzione del tumore al seno. Buongiorno dottoressa Montemarano. Buongiorno Corrado, mi sente innanzitutto? Sì, non è dirigente sportivo, è sportiva e però facciamo attenzione ai titoli ragazzi. Allora, la sento benissimo dottoressa Montemarano, prego. Bene, buongiorno. Sì, abbiamo questa importante iniziativa che inizia oggi alle ore 16 e ci sarà fino a domenica. Sarà allestito un villaggio della salute per tutte le donne della città di Napoli e per tutte le donne che dalla Campania vorranno giungere a Piazza degli Artisti al Vomero e con la possibilità, quindi con delle carovane, la possibilità di fare degli screening gratuiti anche nelle donne al di sotto della facilità di screening. Sappiamo che una mammografia di screening si può effettuare in Campania, ma in particolare nell'ASNapoli 1 dai 45 anni fino ai 69. Con questa iniziativa invece ci sarà la possibilità di abbassare l'età, di poter effettuare una mammografia dai 40 ai 44 e un'ecografia per le donne più giovani. La Comen ha questo importante messaggio per cui l'ASNapoli 1 ha deciso di partecipare attivamente e andare in partnership con questa associazione che è un'associazione importante e diffusa in tutto il mondo. Nasce a Dallas in America e poi anche in Italia ha un impatto nazionale veramente importante. Si pensi che il Presidente della Repubblica ha tagliato il nastro per la Race for the Cure, speriamo che anche noi prossimamente avremo certi onori perché è un simbolo per la lotta della prevenzione del tumore del seno. Noi ogni giorno, quindi per noi in particolare è una mission quotidiana, noi nel centro di screening di primo e secondo livello dell'ASNapoli 1 localizzato all'ospedale annunziata. La prevenzione è importantissima perché sono 56.000 le donne che ogni anno circa si ammalano di tumore al seno, cioè per intenderci una donna su nove. Quindi la percentuale altissima nonché in aumento e anche con un abbassamento dell'insorgenza del tumore al seno. Quindi anche le donne più giovani sempre più frequentemente iniziano ad essere colpite da queste malattie. L'unica cosa, l'unica arma che possiamo avere per riuscire a sconfiggere l'altissima incidenza di tumore al seno è proprio la prevenzione. Benissimo, come funziona dottoressa Montemarano? Perché questo naturalmente noi lo ricordiamo si passa sempre, è il primo passo che facciamo attraverso i medici di famiglia o presso le strutture territoriali delle ASL e però molte donne non sanno che è tutto gratuito, non ci sono tempi di attesa, la burocrazia è praticamente zero. Allora sì, sì, assolutamente. Fare la mammografia di screening non è eseguire una mammografia, è opportuno informare la popolazione, le donne della città di Napoli per quanto appunto ci riguarda, che è l'accesso a un percorso completo che inizia dalla mammografia, perché la mammografia è la tecnica più importante nella diagnosi, nell'individuazione del tumore in fase precoce, cioè prima che si veda e prima che si valpi. Quindi lo screening è sostanzialmente un percorso, una possibilità che dà appunto di cercare il tumore in una donna sana, asintomatica o comunque apparentemente sana, quindi di individuarlo quando si può sconfiggere, quando le terapie possono essere meno invasive e anche più risolutive. La donna entra, fa la mammografia sotto, diciamo, nel distretto di riferimento, quindi a pochi passi da casa e quando ci sono dei dubbi, dei sospetti o delle positività viene, entra, viene presa in incarico dalla nostra azienda, quindi dall'Asl e viene e ha la possibilità di essere inserita in un completo percorso diagnostico nella nostra realtà fino, noi arriviamo fino alla diagnosi istologica, poi siamo direttamente collegati con la chirurgia dell'ospedale del mare, in particolare con il dottore Antonio Marano e la paziente ha la possibilità di essere eseguita poi ulteriormente nel nostro GOM, cioè nel gruppo oncologico multidisciplinare dove c'è, oltre alla figura del radiologo-senologo e del chirurgo, anche oncologi, radioserapisti, anatomopatologi che sono, che ruotano attorno alla paziente e che disegnano il percorso di guarigione secondo, applicando le linee guida, appunto in equip. Tutto questo poi viene, la signora così viene abbandonata, non è lasciata. Certo, c'è un equip anche di carattere di assistenza dal punto di vista psicologico, no? Sì, assolutamente. Ecco, questo mi apre la domanda che voglio farle, dottoressa, naturalmente lei ha una buona esperienza, nonostante la giovane età, ha maturato già una buona esperienza in questo campo, perché le donne non devono aver paura di sottoporsi ad un primo step che è la mammografia? Allora, c'è tanta paura di fare la mammografia, è una realtà che è diffusissima e proprio per questo noi abbiamo inserito, oltre che per supporto al momento delle diagnosi nelle donne positive di carcinoma nel nostro screening, noi abbiamo inserito la figura della psicologa proprio per cercare di capire e soprattutto per eliminare questo preconcetto che è soprattutto dei nostri territori. La paura c'è, esiste ed esiste anche nelle donne, in tutte le donne, quindi senza fare una differenza di origine sociale e culturale, è una caratteristica che che accomuna soprattutto le donne dei nostri territori, perché questo accade meno nelle regioni del nord, dove le adesioni allo screening sono molto maggiori. Cerchiamo di, quindi non ci fermiamo mai per dire che lo screening è assolutamente salva vita, è importante effettuare una mammografia di screening, quindi di rivolgersi nelle strutture dedicate che possono prendere in incarico la donna e seguirla in tutto il percorso e non essere lasciata nello sconforto. La diagnosi precoce stravolge completamente la prognosi, ci dà la possibilità di arrivare a una guarigione in più del 90% dei casi, quindi la paura assolutamente non è giustificata, mi fa piacere avere la possibilità di dirlo, io lo dico ogni giorno alle mie pazienti, però spero che questo messaggio possa essere diffuso meglio. Bene, senz'altro per la diffusione completa, noi abbiamo al telefono e ringraziamo di Erssi collegata con noi la dottoressa Tiziana Esposito, che è la responsabile dello screening per l'Asla Napoli 1 Centro. Buongiorno dottoressa. Allora, Corrado, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eh sì, ti correggo il cognome, Tiziana Spinosa. Perdonami, perdonami, noi ci conosciamo naturalmente che ho detto tu. Intanto saluto e ringrazio Marcella Montemarano, che oggi è impegnata in un convegno, per cui, proprio per il tema della prevenzione, grazie di essere stata con noi, dottoressa Montemarano. Buona giornata a tutti, grazie e saluti a Tiziana.